musica 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 mi hai chiesto di porti questa domanda e io te ne faccio due in una per non aver distruttato i colleghi alla prima già so la risposta la macerina è costruita per vincere il campionato il mister ha già risposto rispondere anche tu e se la macerina è costruita per vincere il campionato per quale motivo bisogna recriminare per non aver vinto contro il modesto reale per un rigore sbagliato al 35 e secondo secondo tempo ma innanzitutto scusate se mi permetto ma vedo tanta tristezza io io invece oggi vado a casa sono contento sono felice io ho visto una squadra vera ho visto una squadra che ha giocato ha lottato ha creato palle e gol ha sbagliato avevo sbagliato però in sette partite non si è fatto un tiro in porta e vincevamo oggi purtroppo abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene però nonostante ciò siamo riusciti a creare delle palle gol non abbiamo vinto merita a loro però io come ripeto vado a casa felice contento e sono convinto che se noi giochiamo così ci toglieremo tante soddisfazioni come ha detto il mister ma come abbiamo detto nello spogliatoio perché oggi ma penso l'avete visto tutti voi me lo potete anche confermare tranquillamente che oggi ho visto una squadra che ha creato bene le situazioni di voi a volte siamo stati frenerici abbiamo sbagliato però non è facile abbiamo cambiato modulo nel giro di pochi giorni però penso che se continuiamo su questa onda qua con la qualità che ha questa squadra che è costruita per vincere e noi ve lo posso garantire che arriveremo fino in fondo perché il campionato è lungo non è finito oggi ma non finisce nemmeno mercoledì e non finisce nemmeno domenica finisce a maggio quindi penso che bisogna mettersi sotto lavorare come stiamo facendo pedalare e raggiungere i risultati perché indossiamo una maglia gloriosa come ha detto il mister indossiamo una maglia importante ma i ragazzi l'hanno capito e oggi l'abbiamo dimostrato Lorenzo oggi prima per te da capitano con l'uscita di Basanisi ho visto anche un bacio in fronte da parte di Fontana di Basanero quando hai indossato la fascia che te l'ha passata da Basanisi che cosa significa per te indossare la stessa fascia e quanto ti è mancato i 90 minuti in campo come oggi visto che parte della prima stagione non sei stato in piega lo stesso del tuo vale innanzitutto ci tengo a dire come ho già detto ai vostri colleghi io sono stato orgoglioso di rappresentare questi ragazzi nel secondo tempo e sono orgoglioso di aver rappresentato questa società e questa maglia è stata una bella emozione perché era da tanto tempo che che non provavo queste emozioni non l'avevo mai provata da capitano e farlo qui penso che per me sia il massimo quindi vado a casa ancora più contento e come hai detto te è vero non ho mai giocato però penso che ho sempre dimostrato di stare sul pezzo mi sono sempre guadagnato tutto quello che ci ho avuto in queste otto partite non ho mai ritirato il piede mi sono sempre allenato a 3.000 all'ora per essere a disposizione dei compagni non ho mai mancato di rispetto a nessuno che questa è una cosa fondamentale e oggi i 90 minuti per me sono stata una liberazione ho cercato di lottare correre poi al di là del gol che non mi interessa perché poi poteva segnare Piccioni poteva segnare Venturini in porta un rinvio perché loro magari scivolava e vincevamo 2 a 1 chi segna non è importante noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo e l'obiettivo è quello di arrivare a maggio e sperare di stare più in alto di tutti poi se c'è una squadra più brava di noi gli stringiamo la mano speriamo di no e basta questo è però io penso che alla fine ci voglieremo grandi soddisfazioni lui mi ha detto che il campionato non finisce a Cava non finisce domenica prossima ma deve ripartire da Cava no io sono d'accordo con te ma è ripartito già da oggi perché ripeto oggi abbiamo fatto una bella partita non abbiamo vinto ma da domani si prepara a Cava ma a Cava non finisce il campionato ma non finisce a Anzio e da lì io sono ripartito da oggi noi ci siamo detti una cosa in questa settimana ma anche dopo la partita ci siamo detti noi dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi dalla prestazione e questa è la cosa importante alla nocerina mancava la prestazione siete d'accordo? quindi io penso che oggi la squadra ha dato una risposta alla città a tutti voi che lavorate alla nocerina fate sacrifici anche a noi stessi serviva una risposta importante perché abbiamo passato una settimana diciamo tutti dicono sembra che sia ma alla fine noi siamo stati sempre sul pezzo ci siamo allenati innanzitutto faccio complimenti a Paolo Barone perché è un allenatore preparato una persona che sta di calcio si è messa a disposizione non era facile conosce il gruppo e penso che va ringraziato e lo faccio io a nome di tutti i compagni perché va rispettato va rispettato come va rispettato lo staff quindi penso che da oggi è iniziato un nuovo campionato per la nocerina poi è chiaro non c'ho la bacchetta magica che ti devo dire mercoledì domenica e poi li vingo tutte magari come posso perdere come posso vincere poi alla fine arriviamo primi arriviamo terzi arriviamo quarti questo non ve lo posso garantire però l'unica cosa che vi posso garantire è che questa squadra rotterà fino all'ultimo giorno per regalarvi un qualcosa di importante ma perché è anche il lavoro nostro noi manteniamo le nostre famiglie con questo lavoro qua io vengo a campo per vincere specialmente quando lo fai con questo stemma qua noi dobbiamo giocare sempre per vincere speriamo che da oggi poi ci regaleremo tutti belle soddisfazioni